Cominciamo invece dalle nuove e molto esibite fidanzate di Salvini e Di Maio, adesso vedrete subito le foto a tutto schermo. Ecco, questa foto segna una svolta nella comunicazione di Di Maio e c'era bisogno di esibire una nuova fidanzata? Sì, direi di sì, evidentemente, perché non è la prima foto questa che esce. Per quello che riguarda Di Maio, è la terza volta che ci sono servizi con una compagna. Di Maio per il momento batte Salvini 3 a 2. Per Salvini, Salvini nella attività più recente, Salvini anche la seconda volta che arrivano sui giornali in quantità massiccia queste foto. Quindi è evidente che è una scelta, perché una volta ti possono beccare. Chiariamo subito, prima di entrare in questo momento, ognuno ha una vita variata a fare quello che vuole. Noi ne parliamo solo perché c'è un'attività di fotografie copiosa. Il direttore di questo giornale oggi ha risultato dicendo «ho fatto 18 pagine, non mi capitava mai di fare 18 pagine fra gli amori dell'uno e dell'altro». Io penso che questa cosa abbia un grande sconfinamento nella politica, grandissimo, cioè che non sono cose casuali.